...soltare! Sopra dei trampoli molleggianti lo vogliono fare! Rimbalzano in alto! Rimbalzano in basso! Per passare in fretta li dovete superare! Da una parte e dall'altra! Così da poter avanzare! Dietro la porta numero tre troverete ciò che cercate! Ecco! Guardate! Guardate! Il polpo piagnucolante! Ehi! Attenzione ai pupazzi di neve! Wow! Come facciamo ad arrivare alla porta con questi pupazzi di neve che ci pattinano contro? Benvenuti sul lago dei pupazzi di neve! Fatto delle lacrime ghiacciate del polpo piagnucolante! È una festa invernale e i pupazzi di neve sui pattini vanno! Si stanno divertendo ma vi urteranno e ad aspettare vi costringeranno! Per oltrepassare i pupazzi di neve scontrosi e non scivolare! Piccoli passetti prudenti con i piedi allargati dovrete fare!